Prima di iniziare ragazzi qui sul canale da adesso potrete vincere tantissimi oggetti di Fortnite tra cui bundle, vbucks, skin, codici di fumetti e tantissime altre ricompense semplicemente ragazzi eseguendo questi semplicissimi tre passaggi innanzitutto essere iscritti con la campanellina al canale se no ragazzi nel sito dove faccio i contest non vi conta quindi cosa fondamentale innanzitutto essere iscritti se no non potrete essere estratti seconda cosa ragazzi commentare con qualsiasi cosa ciao il vostro ID basta che commentate così avete l'occasione di essere ovviamente estratti e lasciare mi raccomando un bel like per supportarmi e poi ogni giorno insomma verrà estratta una persona quindi avremo diversi vincitori ogni giorno con cui con un semplice giro di ruota avranno la possibilità di riscattare una ricompensa la ruota della fortuna è comunque esattamente questa che vedete alla mia destra quindi non appena ci saranno i vincitori per ogni persona insomma si gira la ruota e come possiamo vedere si vince un oggetto tra questi qua che vedete alla mia destra ovviamente settimana in settimana cambieranno quindi non sono ovviamente fissi un giorno ci potrebbe essere che ne so il pack di Joker un altro giorno o un'altra settimana potrebbe esserci un altro di Bundle quindi ovviamente mano a mano che passano i giorni settimane le ricompense comunque cambieranno e come ogni giorno ragazzi facciamo subito il giro vediamo il vincitore di oggi vince Mato facciamo subito il giro ragazzi bentornati in questo nuovissimo video io sono Cercinato e oggi siamo in un nuovissimo video su Fortnite per andare a vedere nuovissime news leak per quello che riguarda soprattutto una skin che potrebbe arrivare gratis e poi ovviamente andremo a vedere altre novità anche un po' per l'evento finale detto questo prima di iniziare se non sei ancora iscritto iscriviti lascia un bel like, condividi il video e direi che possiamo subito partire con la prima novità di oggi che riguarda ragazzi il Bundle delle FNCS che dovrebbe a brevissimo arrivare trappelato ovviamente con l'ultima patch 20.40 questa è la nuova skin delle FNCS è veramente molto molto carina che ovviamente ritrae sempre i colori classici delle FNCS abbiamo poi ovviamente la lobby musicale Backpack Emote che in realtà insieme al Backpack potete ottenere tramite i drop delle FNCS il resto invece verrà messo come bundle sicuramente a circa 1500 bucks massimo dovrebbe comunque arrivare in questi giorni dato che ci sono i tornei delle FNCS prossima news invece ragazzi riguarda un po' di skin infatti questa come possiamo vedere dovrebbe arrivare in futuro nel negozio oggetti sicuramente prima che arrivi la nuova stagione insieme a questo altro bundle qui che è di un content creator ragazzi infatti come possiamo vedere c'è il deltaplano vecchissimo nuvola mi sembra che si chiami con i fulmini bellissimo deltaplano oltre che ovviamente vecchissimo è stato rilasciato in una delle prime stagioni di Fortnite skin niente di che Moth e poi niente questo dovrebbe arrivare in futuro insomma nel negozio oggetti non dimenticatevi anche il negozio oggetti per l'evento finale infatti avrà un nuovo sfondo dedicato e si dice ragazzi che in questo nuovo negozio oggetti dell'evento finale ci sia la skin nuova la nuova versione di Paradigma attenzione molto probabilmente quasi al 100% non vedremo tornare Paradigma versione standard della stagione X del capitolo 1 sembrerebbe infatti ragazzi che uscirà la sua nuova versione sempre a pagamento nel negozio oggetti però questo ovviamente ancora da confermare insieme al Jonesy versione prigioniero siccome infatti c'è un nuovo sfondo del negozio oggetti è molto probabile che queste due skin anche se attualmente non hanno il tag del negozio oggetti possono arrivare quindi aspettiamocene molto probabilmente il giorno dell'evento finale inoltre ragazzi per tutti quelli che hanno collegato l'account PlayStation all'account Epic Games e hanno fatto insomma tutto quello che dovevano fare per questo nuovo evento possono adesso ottenere se hanno contribuito con almeno un cerchio della tempesta gli Avatar PlayStation e inoltre ragazzi il Delta Plano quindi se avete insomma fatto l'accesso e tutto siete sopravvissuti semplicemente a una safe riceverete insomma a breve queste ricompense io in realtà ho fatto l'accesso e tutto ma attualmente non ho nulla nell'armadietto voi l'avete ricevuto probabilmente potrebbe essere un bug magari lo riceverò in futuro fatto sta che in teoria stanno distribuendo comunque queste ricompense un'altra novità molto importante per tutti quelli che collezionano i fumetti che sono in arrivo della Marvel è già preordinabile il nuovo fumetto stavolta non costa 3 euro costa 2 euro in più quindi 5 euro di preordine per questo fumetto che ti consentirà di ottenere ovviamente il fumetto cartaccio e ragazzi ovviamente una nuova versione di Spider-Man attualmente sconosciuta basta cercare comunque su Amazon ad esempio il nome di Donald Mustard e dovrebbe in teoria subito apparirvi comunque cercate fumetti Marvel Fortnite sicuramente vi appare se non vi appare vi lascio il link sul mio canale Telegram che trovate in descrizione poi ragazzi parliamo di questa skin infatti sembrerebbe ragazzi che possa arrivare gratuitamente secondo i leaker potrebbe arrivare tramite l'evento consiglio un amico 2.0 ne abbiamo già avuti alcuni eventi di questo tipo che ci hanno già dato altre skin gratis sembrerebbe che ne arriverà un altro probabilmente ho proprio gli scoccioli di questa stagione ma io credo più che altro che arriverà nella prossima stagione questo evento e ci consentirà oltre che di ottenere questa skin gratis ovviamente anche il suo restante set quindi molto probabilmente ci sarà qualche emote varia perché c'è infatti qualche spray qualche emote collegata a questo set quindi probabilmente anche quelle saranno gratis insieme proprio a questa skin che comunque ragazzi è veramente molto molto bella è tipo una bombarolo versione nuova insomma quindi fatemi sapere cosa avete pensato di questa nuova skin gratis che molto probabilmente arriverà nella prossima stagione se tutto va bene mi raccomando subito un bel like se non sei ancora iscritto iscriviti condividi il video e noi ci vediamo domani alle ore 16 come sempre bella ciao 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 ciao